Luca De Biase, sedendo all'interno della unità di missione, che visione dell'Italia e dello stato dell'innovazione dell'Italia si ha? L'agenda digitale europea è il nostro punto di riferimento e quando ci confrontiamo con gli altri paesi vediamo che l'Italia è indietro. E' molto importante che sia meno indietro nel più breve tempo possibile e che troviamo il modo per riuscire in questa direzione, dato una condizione che, come tutti vedono, derivante dall'instabilità governativa, abbastanza difficile. Questo significa però che si possono fare delle cose che possono avere delle conseguenze di lungo termine e che queste cose devono essere raccontate e dimostrate nella loro importanza. Il primo compito dell'unità di missione è stato quello di definire una governance che faciliti la collaborazione e il coordinamento tra tutti i soggetti che fanno qualche cosa che c'entra con l'agenda digitale. Questo lavoro che è semplice da definire ma difficile da implementare in un contesto nel quale ci sono così tanti soggetti che giustamente si occupano di così tanti argomenti è stato il primo compito. Questo primo compito è definito come ruolo a favore dello Stato dalla Costituzione che dice che è nell'ambito della divisione dei poteri tra regioni comuni e Stato, lo Stato è quella cosa che si occupa tra le altre della standardizzazione dei pesi, del tempo e dell'informatica pubblica. Quindi lo Stato in quanto coordinatore costituzionale dei sistemi che producono queste cose è chiamato a facilitare il coordinamento con una governance. La governance introduce una architettura che se mi consenti la semplificazione è basata sull'idea che esista un'infrastruttura delle piattaforme e delle applicazioni come se noi avessimo una Internet, come nell'architettura normale di Internet e non un insieme di silos che vanno dal dato all'applicazione.